buonasera a tutti e bentornati ancora una volta qui su speedy news da barbara oggi parliamo di pagamenti anticipati con lavorazioni già a partire da oggi per il reddito di cittadinanza quota ordinaria di fine mese quindi mi raccomando seguitemi per avere questi dettagli importanti sui pagamenti se ancora non siete iscritti al canale fatelo ora subito mi raccomando non aspettate lasciatevi un bel like ricordatevi sempre di cliccare sulla campanellina se vi state iscrivendo per ricevere tutte le notifiche in tempo reale e poi perché no abbonatevi magari anche al canale quindi rdc mese di aprile quota ordinaria di fine mese quella che in maniera consuetudinaria viene pagata solitamente il 27 del mese è prevista con un giorno di anticipo e cioè il 26 in quanto essendo domani 25 aprile una giornata di festa le lavorazioni sono in anticipo già da oggi e quindi nel momento in cui arriva la lavorazione tempo due giorni arriva il pagamento da parte di poste italiane quindi nel momento in cui ci sono le disposizioni le lavorazioni nel vostro fascicolo previdenziale parte poi l'iter per il pagamento attraverso poste italiane quindi vi consiglio di verificare il vostro fascicolo previdenziale di andare a vedere nell'arco appunto di questa giornata soprattutto verso la fine tarda serata quelle che sono appunto le lavorazioni se compaiono vedrete appunto anche la data di disposizione per il pagamento che per molti appunto potrebbe arrivare in anticipo già il 26 di aprile quindi video flash per darvi questa informazione a mio avviso importante verificate fateci sapere nei commenti mi raccomando continuate sempre a scriverci a seguirci con l'affetto che ci dimostrate e quindi iscrizione campanellina like abbonamento e vi aspetto qui con il prossimo video arrivederci a tutti da barbara